Il cristiano non si può abbandonare alla casistica, alle sicurezze artificiali, deve essere radicato in Gesù che è la pienezza delle promesse, il sì totale per la gloria del Padre. Nella messa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato su tre parole, sì, sale e luce, proposte dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. In Gesù ha detto non c'è un no, sempre un sì e noi partecipiamo a questo assenso perché il Figlio di Dio ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra dello Spirito. Ed è lo stesso Spirito Santo, ha insistito il Pontefice, che ci aiuterà a diventare luce e sale nella nostra testimonianza al mondo. Sicurezza nella pienezza delle promesse in Cristo, in Cristo tutto è compiuto. Testimonianza verso di altri. Dono ricevuto da Dio in Cristo, che ci ha dato l'unzione dello Spirito per la testimonianza. Questo è essere cristiano, illuminare, aiutare anche il messaggio e le persone non si corrompano, come fa il sale. Ma se si nasconde la luce e il sale diventa senza sapore, senza forza, si indebolisce, la testimonianza sarà debole. Ma questo succede quando io non accetto l'unzione, non accetto il sigillo, non accetto quella caparra dello Spirito che è in me. E questo si fa quando non accetto il sì in Gesù Cristo.